No! Oh oh! Non finirà bene! Non devi più entrare in questa casa con le scarpe sporche! No! Guarda cosa hai fatto! Me ne vado! Adesso vedrai! Delimiterò la mia parte della stanza, così d'ora in poi non potrai più entrare nella mia stanza! Va bene! Davvero un bel modo di rilassarsi! Oh oh! Arriva la gomma! Attenta! Oh no! Che cosa hai fatto? Ops! Nessun problema! Posso toglierla! Oh no! È disgustoso! Non credo che quello sia lo strumento giusto per togliere la gomma dal muro! E se vuoi provare, prova! Aspetta un attimo! Penso di avere un'idea! Sì! Wow! Ha attaccato i tubi galleggianti colorati sul muro! E ha creato un bellissimo arcobaleno! Come ti spaventi facilmente! Wow! È fantastico! Vai via! Questo muro è mio! Sembra che qualcuno qui sia un po' geloso, eh? Aspetta un attimo! So cosa fare! Forte! Ha attaccato le sue decorazioni al muro usando la gomma da masticare! Davvero due belle stanze! Avete avuto delle ottime idee! Brave ragazze! Sì! Ora la mia stanza sarà molto più bella della tua! Voglio qualcosa di nuovo! Palle antistress! Le comprerò! Wow! Che velocità! Quella palla antistress si adice molto al tuo stile! Non ho bisogno dei tuoi stupidi giocattoli! Anche io ho una palla antistress! Ehi! Ritannela! Oh no! Come farai a riprendertela? Non puoi andare dall'altra parte! No! Come farò adesso? Quella era la mia palla antistress preferita! Cos'è? Eh? Cosa farai con quella? Penso che abbia avuto un'idea! Prendi una bottiglia piena di bubbles! Poi metti un palloncino sopra la parte superiore della bottiglia! Ora riempi il palloncino! Usa tutta la tua forza! Ora fai un bel nodo! Ecco qui! Hai fatto! Palla antistress fatta in casa! Cosa dice mia piccola palla antistress? Di cosa hai bisogno? Sembra che qualcuno si stia vendicando! Cosa succederà ora? Oh certo! Il lavoro non è ancora finito! Prendi della rete e metti dentro la tua palla antistress! Ho la sensazione che da un momento all'altro inizierà una vera battaglia! Chi vincerà? Wow! Pioggia di bubbles! Che esplosione! Vedi? Le mie palline sono molto meglio! Ehi! Cosa? Le mie calze a rete! No! Erano le mie preferite! Perché? Sembra che nessuno delle due abbia vinto oggi! Sembra che qualcuno sta facendo una dolce pausa! Che a quanto pare non vuole condividere! Mi dai un pezzetto? Anche minuscolo per favore! No! Anche io voglio mangiare! Oh wow! Forse il tuo desiderio sta per diventare realtà! Dovrei solo fare attenzione! Sarà una specie di missione impossibile! Piano! Piano! Niente pazzo! Posso farcela? Sì! Sono dalla mia parte! Sono miei ora! Che buono! Oh no! Sembra che qualcuno si accorgerà molto presto di quello che hai fatto! Veloce! Devo nasconderli! Conosco un ottimo trucco! Per questo trucco hai bisogno di una mascherina! Dei tuoi cioccolatini e della colla a caldo! Attacca i cioccolatini con la colla! Ma usala con attenzione però! Riempi tutta la mascherina! Wow! Che bella! Colorata e deliziosa! Dove sono i miei? Cosa? Sei malata? Non ti avvicinare! È stata una buona idea! Nessuno se ne accorgerà! E tu! Adoro la mia nuova custodia del telefono! È incredibile! È troppo divertente! Adoro schiacciare questi simpatici animaletti! Vedete? Oh no! Cos'è? Da per vomitare! È disgustoso! Devo pulirlo subito! Oh! Che disordine! Aspettate un attimo! Penso che abbia appena avuto un'idea! So cosa fare! È tempo di creare! Prendi un palloncino! Taglialo a metà! E metti una gomma da masticare all'interno! Ora prendi della colla a caldo e mettine un po' sulla tua custodia del telefono! Non essere parsimonioso! Metti tutta la colla che ti serve! Ora attacca il tuo palloncino! Cosa? Dove l'ha preso? Ho una custodia più bella della mia! Vedrete! Distruggerò tutti questi giochini! Non mi servono più! Adoro leggere la sera! Cosa sta facendo? Che stupida! Aia! Non mi interessa! Aspetta! È caduto qualcosa! Devo controllare cos'è! Oh wow! È il suo diario! Non ci posso credere! Leggerò tutti i suoi segreti! Che ridere! Perché ride così? Ah vabbè! Oh no! È il mio diario! No 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 no! Uffa! Non posso andare dalla sua parte! Cosa posso fare? Ho un'idea! Sono sicura che funzionerà! Cosa vuoi? Cosa? Facciamolo! Le ragazze stanno per fare uno scambio! Quanto le costerà ria avere il suo diario? Un cioccolatino? Assolutamente no! Voglio qualcos'altro! Cosa? Dai! No! Non è abbastanza! Vuoi il tuo diario o no? Wow! Quante cose interessanti! E guardate! Sono un sacco! Scommetto che saranno sufficienti per lo scambio, vero? No! Aspetta un attimo! So cosa fare! Ho una bella proposta per te! Quella è mia! La mia Barbie! Oh! Sei viva! Va bene! Sì! 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 I miei segreti sono al sicuro ora! Che cosa ti ha fatto? Ora sei al sicuro! Finalmente un po' di pace! Il mio telefono! Dov'è? La mia dolce tarantola! Mi sei mancata! Ti adoro! Immagino che questa pace non durerà ancora per molto! Saluta Mr. T! Toglilo! Toglilo! È stato facile! Mi sto stancando di questi scherzi! Mi riposo un po'! Sono stufa dei suoi scherzi! Devo pensare ad un piano e subito! Scopriamo cosa farà con quella scopa! La spaventerò anche io! Così non mi farà più scherzi! Perfetto! Metterò la coperta sopra la scopa! E poi metterò una scarpa! Che lo spettacolo abbia inizio! Aaaaaah! Ma come sta dormendo? Beh, è ritornata a dormire dopo tutto! Speriamo che non faccia incubi stanotte! E tempo di un video TikTok! Di nuovo con i suoi stupidi video! Beh, almeno io posso ponermi il mio latte in pace! No! Cosa farò adesso? Che disastro! Quello era il mio avuto preferito! E tu l'hai rotto! Nessun video per un mese! Non posso permetterlo! Devo metterlo nel suo lato! Cosa? Assolutamente no! Non sono usata io! Aspetta un attimo! Posso sistemarlo? Prendi una bottiglia di latte e un toglierino! Toglia la metà! Conserva solo una metà della bottiglia! Ora dai sfogo alla tua creatività! Gli occhi sono perfetti lì! Disegna anche le sopracciglia, le guance e le labbra! Che bel viso! Wow! Sembra fantastico! È come se la mia pianta avesse un viso! Ed ecco i capelli! Sono molto orgogliosa di me stessa! Ben fatto! Cosa? Ora la mamma penserà che tu sia la migliore! Wow! La mia bambina è molto creativa! Hai fatto tutto da sola! Sono molto orgogliosa di te! Ecco! Questo è per te, amore mio! Prendi! Beh, questo è quello che si ottiene quando cerchi di imbrogliare! Sto morendo di fame! Voglio del cibo! Cos'è? Ha un profumo delizioso! Ecco la pizza! Grazie! Oh, ma certo! Lei ha la carta di credito della mamma! Può ordinare quello che vuole! Cos'è? È un bigliettino che proviene dall'altra parte della stanza! Per favore, solo un pezzettino! No! Eccone un altro! Ho detto di no! È così difficile da capire? Mi dispiace, ma tua sorella non vuole condividere! Va bene, va bene! Smettila subito! Sembra che abbia avuto un'idea per condividere il cibo in modo divertente! Le ragazze si sfideranno! Forte! Se riuscirei a finire questa gomma più velocemente di me, puoi prendere la pizza! Lo faremo con gli occhi bendati! Va bene, ci sto! Via! Sembra una battaglia seria! Chi vincerà? Come fa? Non può vincere lei! Idea! Guardate! Hai scogettato un piano malvagio! Sta dando la sua gomma a sua sorella! In questo modo la pizza sarà la sua! Fatto! Ho vinto io! Attenta! Oh no! Che esplosione! Oh oh! Gomma dappertutto! Anche sulla pizza! Hai rovinato tutto! Ops! Vabbè, l'assaggerò lo stesso! Solo per vedere se la pizza è buona! È deliziosa! È tutta tua ora! Non sono una fan della pizza che sa di gomma! Ma buon appetito! Vabbè, l'assaggerò lo stesso! Vabbè, l'assaggerò lo stesso! Vabbè, l'assaggerò lo stesso! Vabbè, l'assaggerò lo stesso! Vabbè, l'assaggerò lo stesso!